Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come realizzare questa sciarpa stolla a ferri che si chiama fisarmonica. È abbastanza leggera in quanto ho scelto il filato che contiene solo 20% di lana. Filato di Adria, fil filo bello. Per questo progetto ho usato 6 gomitoli da 50 grammi quindi 300 grammi di filato. Progetto molto semplice. Poi la sciarpa è leggera, come l'ho detto, abbastanza larga e lunga. Si può usare in vari modi. Poi si può fare anche di cotone, si può fare di varie filate. Quindi ci serviranno due misure diverse di ferri. Poi nel tutorial io spiego come si fa passo per passo. E adesso vi faccio vedere un altro, cioè si può usare così, si può fare due giri. E adesso vi faccio vedere le misure della sciarpa finale. Ecco, come vi ho detto, la misura di mia sciarpa, la larghezza è 40 centimetri. Invece come lunghezza, qui abbiamo 80 x 2, quindi risulta un metro e 60. Poi dipende anche dal vostro piacere. Se volete fare una sciarpa più lunga o più larga, bisogna sempre variare il numero di mali. Se questo progetto vi è piaciuto, rimanete con me. Per fare questa sciarpa ho scelto filato di Adriafil, che si chiama Filobello. Qui abbiamo 80% di acrilico e 20% di lana. Il filato è abbastanza soffice, non tanto grosso, è adatto a questa sciarpina primaverile. Quindi per fare questo progetto ci vogliono due misure di ferri. Io userò ferri di Knit Pro, che cambierò solo le punte. Quindi numero 3, che ho scelto ferri tondi, e numero 6, che userò ferri quadrati. E poi il cavetto, che lo cambio dopo. Userò anche contagiri, che mi aiuta a contare giri. Allora, io ho fatto il campione, ho avviato 20 maglie. Il mio campione risulta circa 12 centimetri. E quindi io, per tutta la sciarpa, avviarò 52 maglie. Anche a voi consiglio sempre fare un campioncino e vedere il filato che sceglierete quanti maglie dovete avviare. Con ferri numero 3 ho avviato 54 catenelle. Adesso togliamo un ferro e possiamo iniziare il primo giro. Allora, io maglia a vivagno non la lavoro. Se voi volete che il bordo della vostra sciarpa viene con nodine, lavorate prima maglia. Io invece la prima maglia non la lavoro. Quindi prima maglia la prendo senza lavorare. Tiro un pochino. E tutti gli altri mali le lavoro tutti a dritto. E ultima maglia del giro. Io la lavoro a rovescio. E quindi noi dobbiamo lavorare a legaccio. Quindi lavorando tutto a dritto per 6 giri. Ho fatto 6 giri a legaccio lavorando tutti i mali a dritto. Adesso ho cambiato la punta del ferro. Ho messo numero 6. Il prossimo giro vi faccio vedere come lavorare. Allora prima maglia io la tolgo senza lavorare. E dalla prossima maglia noi da una maglia dobbiamo creare 2. Quindi io entro da questa parte. Tiro maglia. E non la tolgo dal ferro. Entro da questa parte. Tiro. E quindi in questa maniera io da una maglia ho fatto 2. E adesso li tolgo dal ferro. E vi faccio rivedere. Entro da questa parte. Tiro. Entro di nuovo nella stessa maglia. La aggancio. La aggancio filo. Tiro. E adesso posso togliere la maglia dal ferro. Ancora una volta. Una e due. E in questa maniera noi dobbiamo andare a lavorare alla fine del nostro giro. Da una maglia da ogni maglia. Li facciamo 2. Prendendo da davanti. E prendendo da dentro. E ultima maglia. La lavoriamo a rovescio. Sono arrivata alla fine del giro. Sempre aumentando. Creando da una maglia 2. E ultima maglia la lavoro a rovescio. Ok. Fatto. Voi non dimenticate di cambiare ferro. Che è importante. Ok. Il giro successivo. Io lavoro a rovescio. Tolgo prima male senza lavorare. E tutti i mali li lavoro a rovescio. Quindi lavoriamo entrambi i mali che abbiamo fatto tutti a rovescio. E andiamo avanti a lavorare così. A dritto sul dritto. A rovescio sul rovescio. Per 10 giri. E undicesimo giro. Vi faccio vedere cosa devo fare. Ho fatto 10 giri a maglia rasata. E con questo abbiamo finito il nostro rapport. Adesso dobbiamo ritornare a fare dall'inizio. Quindi un'altra cosa che volevo dire. Che il rapport potete creare voi come vi piace. Io ho scelto questa conseguenza dei giri. Quindi 6 giri a legaccio. E 10 giri a maglia rasata. Voi potete fare di più o di meno come piace a voi. Quindi per iniziare dall'inizio il rapport. Quindi dal primo giro. Noi prima di tutto cambiamo il ferro. Io ho già cambiato la mia punta. E voi non dimenticate di cambiare. Allora dobbiamo tornare al numero iniziale delle maglie. Quindi prima maglia la tolgo senza lavorare. E due successive le lavoro insieme a dritto. Ok? E così le faccio tutte le maglie lavorandole due insieme. Quindi entro. Le prendo tutti e due. E lavoro a dritto. E così andiamo a lavorare fino alla fine del nostro giro. E ultima maglia la lavoro a rovescio. E in questa maniera io faccio adesso 6 giri a legaccio con il ferro numero 3. Poi il settimo giro che sarebbe primo della seconda parte. Io raddoppio le mie maglie. E faccio 10 giri a maglia rasata. E così vado avanti a lavorare. Un'altra cosa che volevo consigliarvi. Siccome la sciarpa non viene bordata. Quando dovete unire due fili non fare i nodi. Vi propongo di vedere un piccolo video che ho messo sul mio canale. Come unire due fili senza nodo. Chi non ha visto vi metto il link nelle box dell'informazione. Poi ci vediamo alla chiusura della sciarpa. Ho fatto la lunghezza desiderata della mia sciarpa. E ho fatto ultimo e sesto giro di maglia legaccio. Non mettetevi a ridere ma io questi contagiri ho messo un elastico tubolare in modo che per mettere e tenerlo comodo sul dito che non mi disturba assolutamente. potrebbe essere uno dei anche per voi. Allora e adesso non mi rimane altro che chiudere. E come faccio a chiudere? Quindi tolgo prima maglia, lavoro a dritto la seconda maglia e la faccio a cavalare. E così vado a chiudere tutto il mio lavoro. Mi raccomando chiudiamo in modo morbido in modo che non stringa la fine della nostra sciarpa. E così vado a chiudere. Quindi lavoro a dritto e questo vado a cavalare. E così fino alla fine. Ho chiuso tutto il lavoro. Come chiudere ultima maglia. Io ho fatto un piccolo video. Chi non ha visto vi consiglio di andare a curiosare. In ogni caso in angolo destro in alto. Voi vedete adesso il link di questo video. E niente con questo il lavoro è finito. Spero che questo video vi è piaciuto e alla prossima. Ciao ciao.